Ciao a tutti, giusto ieri vi parlavo di lui, Huawei P40, soffermandomi su alcuni aspetti tecnici, sulla qualità della fotocamera e parlandovi, forse in maniera un po' troppo leggera, di quello che è il suo principale difetto, ovvero l'assenza dei servizi Google. E questo perché avevo in mente di fare questo video, in cui invece appunto vado a raccontarvi la mia esperienza, ovvero la convivenza con l'assenza dei servizi Google. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così. Ebbene, quando ho ricevuto il telefono, il mio primo approccio è stato quello di proviamo a utilizzarlo semplicemente utilizzando quello che Huawei ci mette a disposizione, quindi lo store di app di Huawei. E qui ho trovato veramente uno scoglio enorme, perché sebbene l'app si vada, diciamo, popolandosi di app e magari si trovano delle app che fanno cose simili a quelle a cui eravamo abituati, comunque non è ancora sufficiente, perché comunque mancano ancora determinate app che vadano a soddisfare tutte quelle che sono le esigenze a cui eravamo abituati. In più, Huawei ci mette a disposizione una scorciatoia, quella delle Quick App, che si basa sul, diciamo, sfruttare maggiormente il browser, ma qua diciamo che è una soluzione che va bene quando i siti a cui ci si vuole appoggiare sono ottimizzati per il mobile e non va comunque bene in determinati casi. Mettiamo l'esempio di Hype, ad esempio la carta di credito forse più utilizzata sul web che non permette l'accesso da mobile a chi non ha l'account plus, quindi quello a pagamento e quindi per utilizzare Hype bisogna per forza passare tramite app. E poi comunque anche con le banche non è sicuramente la situazione più congeniale l'utilizzo di un browser. Ho deciso quindi di cambiare approccio e passare da un estremo all'altro andando a cercare di installare i servizi Google e il Play Store di Google. Ho seguito un paio di guide e qui, lo ammetto, ve lo ammetto, non ci sono riuscito. Perché il problema non è sostanzialmente quello di riuscire ad installare tutti gli APK che bisogna andare a installare, ma quanto quello di eliminare tutte le notifiche che poi ci compaiono, dei pop-up molto noiosi che se l'installazione non è andata bene al 100% continuano a comparire e rendono veramente noiosa la vita sostanzialmente. Ebbene, ripeto, ho provato un paio di guide, però in entrambi i casi non ci sono riuscito. Non ho voluto approfondire un argomento, sono sicuro che probabilmente dedicandoci un po' più di tempo ci sarei probabilmente riuscito, anche se ve lo dico nei commenti alle guide che ho trovato comunque ci sono una buona parte di persone che ci sono riusciti e una buona parte di persone che invece continuano ad avere problemi nonostante il telefono sia lo stesso per tutti, comunque c'è qualcosa probabilmente che all'interno della procedura non va. Detto questo, ripeto, non ho voluto dedicarci troppo tempo perché il mio tempo a disposizione era limitato ho deciso quindi di passare alla via di mezzo, quindi all'installazione dello store di APK Pure si tratta di un sito che mette a disposizione gli APK che noi troviamo sostanzialmente sullo store di Google e ci dà anche un'app a disposizione che noi possiamo andare ad installare e si crea come una sorta di store all'interno del quale io posso vedere quali sono le APK che ho installato sul telefono e da lì mantenerle aggiornate non in maniera automatica ma ogni volta io devo andare, devo entrare, vedere le APK che ho installato e aggiornarle manualmente quindi già qua capiamo che abbiamo qualcosina in meno rispetto all'installazione dei servizi Google e del Play Store Google però quantomeno mi permette di arginare quello che è il problema dell'assenza delle APK perché qua la maggioranza, direi, non so, 95% di APK adesso sparo un numero a caso però ho trovato veramente quasi tutte quelle che erano le APK di mio interesse le uniche a mancare ancora una volta quelle delle banche perché anche qua manca l'APK della mia banca e manca l'APK di AIP probabilmente lo fanno apposta per un discorso di sicurezza anche perché il discorso di sicurezza è appunto l'elemento fondamentale su cui si basa tutto questo e perché lo dico perché diciamo andando, passando, avendo come tramite APK Pure si tratta di un sito verso il quale io non ho nessuna garanzia di sicurezza io vado a scaricare un eseguibile che sì, ha una prevenienza conosciuta ma io non so se all'interno di quel sito ci sono, anzi sicuramente non ci sono gli stessi livelli di sicurezza che posso avere sul Play Store di Google e quindi andare a installare determinate AP all'interno del quale devo dare determinate credenziali è un discorso abbastanza critico in termini di sicurezza ed è per questo che comunque non mi fiderei appunto a dare le credenziali verso app dove ho comunque dei dati importanti però devo dire che comunque con l'utilizzo di APK Pure ho arginato un po' il problema molte delle app che utilizzavo sono riuscite a utilizzarle non tutte dicevo e forse quella che mi è mancata più di tutte ad eccezione di quella delle banche è YouTube perché comunque anche qua sebbene ci sia l'APK io posso andare a installarlo comunque nel momento in cui vado a utilizzarlo non posso vedere niente perché comunque mi fa presente l'app che mancano i servizi Google e senza di quelle sono appunto a capo sostanzialmente l'unico modo per utilizzare YouTube è passare sostanzialmente dal browser e quindi questo è un ulteriore diciamo campanello d'allarme nel senso che sì è vero che con APK Pure si risolvono la maggioranza dei problemi ma di nuovo non tutti ed è per questo che diciamo che sebbene il P40 sia probabilmente uno dei telefoni veramente meglio riusciti dal punto di vista estetico dal punto di vista delle specifiche a questo problema quello dell'assenza dei servizi Google che comunque è qualcosa di cui dobbiamo tenerne conto dobbiamo veramente focalizzarci su questo problema per cercare di capire se possiamo aggirarlo in modo tale che sostanzialmente non abbiamo più questo scoglio perché si tratta di uno scoglio veramente importante anche oggi dove il ban ormai è in vigore da diversi mesi però ancora non c'è una via di risoluzione anzi è proprio notizia dell'altro giorno che il ban verso Huawei si è protatto fino al 2021 e quindi la risoluzione di questo problema non sembra essere molto vicina purtroppo purtroppo lo ripeto perché veramente questo Huawei P40 mi è piaciuto su diversi aspetti però diciamo che dobbiamo far fronte a questa problematica e quindi vi invito se state prendendo in considerazione i P40 comunque a valutare sicuramente questo aspetto perché è un aspetto fondamentale non si può non prenderlo in considerazione è tutto per questo video molto veloce molto schietto se vogliamo che però vuole focalizzarsi appunto su un aspetto fondamentale se vi è piaciuto mettete il like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti